Plus Valenze Juve, la procura di Bologna chiede di archiviare sulla linea Orsolini. Mancanza di elementi. Con questa valutazione, in relazione all'accordo mai previsto in Lega per un diritto alla ricomparsa di Riccardo Orsolini tra Bologna e Juventus, la prosecuzione del capitale emiliano ha escluso comportamenti criminali. Figuriamoci inquadrati nel paradigma del falso budgeting, chiedere al giudice di chiudere il procedimento penale nei confronti di persone sconosciute che sono state aperte alla giurisdizione territoriale dopo l'indagine Prisma di Torino sulle plusvalenze del club Juventus. I motivi, la e pro memoria e dell'accordo, con firme illegibili e non immediatamente identificabili, si può giustamente presumere Cesare Gabassio per la Juventus e Claudio Fenucci per Bologna, scrive la procura. Secondo il procuratore Francesco Calecca e il procuratore capo, Giuseppe Amato, è un atto che non può essere sostenuto da esistenza legale, documentata e, soprattutto, con valore assorbente, l'usabilità in caso di dissenso o standard. Questo perché non c'è firma per l'accettazione del giocatore, e quindi la mancanza di esecuzione è evidente dal fatto che il giocatore è ancora Bologna. In ogni caso, dice il procuratore, questo è un documento che, come la testa è firmato, non ha integrazioni e contratto e che possono essere in qualche modo gestiti da alcune parti. La mancanza di deposito nella Lega, che potrebbe interessare i pubblici ministeri nel caso delle sole autorità sportive, si concentra qui contro la validità barra efficacia dell'atto, concludendo che, gli elementi acquisiti possono basare solo l'esistenza di un gentleman agreement, ma non di un atto civile importante e simili per i conti e degli effetti.